Salve e benvenuto al nostro amico. libro che apre come al solito con volumi di carattere più ecclesiale, teologico, religioso. Partiamo da questo prezioso volumetto di Andrea Albertini, Ricominciare a credere, itinerario biblico liturgico per giovani e adulti, con prefazione di Monsignor Claudio Cipolla dal messaggero di Padova. E allora per farci un'idea concreta vediamo i contenuti. Dalla salute alla salvezza. La vita e i suoi tornanti tra prove e priorità. sono due parti sempre contrassegnate con il primo e il secondo. Il grido lanciato oltre, mettersi in cammino, vedersi guariti, tornare sui propri passi. dai doni di Dio al Dio che dona. E dalle Deoneane di Bologna, di Pasquale Basta, prima lettera ai Corinzi, edificare nella difficoltà. Infatti il motivo immediato di questa lettera ai cristiani di Corinto è venire incontro ad alcune difficoltà che sono sorte tra gli stessi credenti. E allora vediamo la struttura della lettera, come qui indicato, divisione all'interno della Chiesa, porneia e tribunali, matrimonio e verginità, le carni immolate, le riunioni di preghiera, i carismi, la risurrezione e i saluti finali. Dalle edizioni grecale di Rosa Pinto, suor Teresa Rella, biografia di una carmelitana itinerante 1923-1981, una vicenda biografica abbastanza tumultuosa, costretta per motivi di salute a uscire dal convento, ecco, suor Teresa all'età di 20 anni, e poi appunto a vivere questa sua consacrazione. Suor Teresa durante l'esilio in famiglia, nella sua cella, contempla la morte di Gesù crocifisso fino alla conclusione. E come vediamo già dalla sopra coperta, il sorriso del Papa, la vita di Albino Luciani e i 33 giorni di Giovanni Paolo I, di Antonio Preziosi. Dalla Gregorian and Biblical Press di Filadelfio, Filadelfio Alberto Iraci, diritto canonico e teologia morale, evoluzione storica e prospettiva interdisciplinare in relazione con l'acquestio fuori. Cioè c'è un foro interno, un foro esterno, un foro interno è quello della penitenza, è quindi segreto, foro esterno pubblico. E qui si vuole sostenere che diritto canonico e teologia morale non sono due ampiti completamente separati, ma sono interrelati. Vediamo l'indice, l'evoluzione storica, teologia morale, diritto canonico, summa dei confessori, San Tommaso d'Aquino, concilio di Trento, una data, una fase importante, e poi ancora i vari teologi moralisti, Prümer, Vermersch, sviluppi problematici, affrancamento della teologia morale dal diritto canonico. Come abbiamo detto, questa fase poi è stata ricomposta. E veniamo alle Paoline Vincenzo Varagona, l'eredità di Carlo Urbani, il protocollo che ha salvato milioni di vite, con prefazione di Theodros Adrianom Gefeversus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E qui viene raccontato il sacrificio, dobbiamo dire, di Carlo Urbani, che si è immolato a vantaggio degli altri che hanno potuto essere guariti. Da Voland, di Karel Čapek, la fabbrica dell'assoluto romanzo feuilleton, a cura di Giuseppe Dierna. Karel Čapek, 1890-1938, è il più importante scrittore cieco della prima metà del Novecento. Abbiamo l'IMES, una pubblicazione periodica, rivista italiana di geopolitica, dedicata alla Polonia imperiale. La nuova stella europea dell'America, punta di diamante del blocco antirusso, il trimarium alla prova della guerra. E all'interno, con molte illustrazioni e cartine geografiche, viene sviluppato il tema. Da Joker, di Marta Petreu, l'Apocalisse secondo Marta. Cura e traduzione di Roberto Merlo. Come potete subito vedere, si tratta di poesia. A sinistra il titolo originale rumeno, a destra la traduzione italiana. Qualcuno tace. Anche tu, papà. Il mio morto, Augustin, ti sogno a volte con il volto girato. Non ti chiamo, non mi rispondi. I morti tacciono tra loro. Vediamo un po'. Mute sono le grandi opere della creazione. Silenziose le cose nulla più parla. Un sole bianco come una luna di cartone. Un sole da due soldi illumina il paesaggio. Questa distesa crollata in sé. Una cosa da nulla è anche il mio cuore non più amante. Per la tenebra, per il male, si dischiude esso al calar della notte. Il bottegaio da Giuliano Ladolfi di Salvatore Carvelli. Ancora una volta abbiamo un racconto che può piacere, può interessare qualcuno. da stilo di Francesco Minervini, ostinate e ribelli. Porzia, Lucia e Lella, voce dell'antimafia sociale a Bari Vecchia in collaborazione con Franco Lanzolo. Vedete in copertina il profilo di San Nicola a Bari. Francesco Minervini, con la consueta finezza, ci propone uno sguardo alternativo, meno superficiale, oserei dire meno volgare, delicato e appassionato insieme su tre donne della città vecchia, Porzia, Lucia e Lella, cattedre viventi di antimafia sociale. E qui abbiamo, per esempio, uno dei racconti autobiografici. Benedetto cadeva e quello lo colpiva di nuovo. A Bari, davanti al nobile Teatro Piccini, che pure è sede del comune, Benedetto morì così, a 18 anni, in uno scontro con bande fasciste, aggressive e armate fino ai denti, che amavano fare ammazzate coi comunisti. La città si scoprì violenta ed ebbe paura di sé. Il giorno dopo, nel centro, presidiato come sotto bombardamento, le scuole furono disertate e per strada non c'era nessuno. La paura nacque sul sangue di Benedetto e invase tutto. Anche casa Petrone, che rimase paralizzata nel silenzio come in un tunnel senza fine. Da qual tunnel, ora, Porzia è uscita e racconta a tutti il senso del suo essere, sorella. Da Ericsson, vediamo già in copertina, sportive, la partita della parità di Lucia Castelli e Alessia Tuselli, con prefazione di Barbara Poggio. E come possiamo immaginare, rimuovere gli ostacoli, mettiamoci in moto, proposte di cambiamento, salutistico, preventivo, ricreativo, socializzante e agonistico. E via di questo passo fino alla conclusione. Veniamo alla Bad Company, cattiva compagnia, riflessioni psicodinamiche di Lorenzo Giusti da Epigrafia Edizioni. Vediamo cosa abbiamo annotato. Scrive Kernberg, in disturbi gravi della personalità, questa mancata integrazione degli aspetti buoni e cattivi della realtà del sé e degli altri è presumibilmente dovuta all'intensa aggressività primitiva attivata in questi pazienti. e abbiamo per le edizioni editoriale scientifica, diritti e tutela dei minori, profili interdisciplinari. Capite? È un argomento molto importante, vario, delicatissimo, questo dei minori, a cura di Antonio Foderaro e Paolo Palumbo. Vediamo un po' di dare un'idea. L'ordinamento canonico, la via europea, il garante, la disparità di culto, la questione educativa, la tutela dei diritti dei figli. Abbiamo annotato a pagina 9, vediamo subito, ecco qui, quanto avete fatto ad uno di questi minimi, i miei fratelli, l'avete fatto a me. Inoltre, tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, di genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio, volontario, tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, gli sforzi più violenti, l'intimo dello spirito, tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni infraumane di vita, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la scavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominose condizioni di lavoro. Una seconda citazione, un po' più avanti, a pagina 27, eccoci qua, e sono questi. Come riferito dal Centro Nazionale per i bambini perduti e sfruttati, l'Unione Europea accoglie ormai il maggior numero di materiale pedopornografico su scala mondiale, da oltre la metà del 2016 a oltre due terzi nel 2019, e questo è veramente vergognoso. Diritti e tutela dei minori dall'editoriale scientifica, la bad company, la cattiva compagnia da epigrafia di Lorenzo Giusti, con riflessioni psicodinamiche, da Ericsson, sportive, la partita della parità, da Stilo, ostinate e ribelli, voce dell'antimafia sociale a Barivecchia, da Giuliano Adolfi, il bottegaio di Salvatore Carvelli, da Joker, l'Apocalisse secondo Marta, di Marta Petreu, Limes, una pubblicazione periodica, la Polonia Imperiale, la fabbrica dell'assoluto da Voland, di Karel Ciapek, l'eredità di Carlo Urbani, che vediamo in copertina dalle Paoline, eravamo partiti da questa ricca sezione di ritto canonico e teologia morale, il sorriso del Papa Giovanni Paolo I, Suor Teresa Rella, da grecale, e la prima lettera ai Corinzi, dalle Dionene di Bologna, ricominciare a credere, di Andrea Albertini, da messaggero. E concludiamo, come abitualmente facciamo, con questo bel volume della Olschi, nella biblioteca dell'Archivum Romanicum, serie prima, storia, letteratura, paleografia, collezionare autografi, la raccolta di Giuseppe Campori, a cura di Matteo Alcalac, e Elena Fumagalli. Già in copertina abbiamo qualche esempio di questa, come chiamarla, passione, mania. Con queste parole motivò il proprio interesse all'erudizione pesarese, Annibale, degli Abbati, Olivieri, Giordani. Tutta la Repubblica letteraria è sempre fatta conoscere l'importanza della conservazione delle lettere dei sapienti e dei letterari, dalle quali si raccoglie quanto più maestervi di interessante in quei tempi, in cui furono scritte e somministrano aneddoti singolari in tutti i rami letterari, scientifici e relativi al commercio, alle arti più utili e al bene di tutta la scienza. E andando avanti vediamo Gaetano Ferraioli, un collezionista di autografi nella Roma dell'Ottocento. Che era quest'uomo che non conosceva le agitazioni e le bassezze della società volgare e che dalla società volgare era così male conosciuto o piuttosto era conosciuto tanto a rovescio da passare per un misantropo? Chi era questo principe solitario dal vestire dimesso, dall'andatura sciatta e frettolosa, dalla visionomia seria dall'occhio pensoso? Chi era questo nobilissimo signore che per servire fedelmente alla scienza ha rifiutato tutte le più belle proposte di matrimonio che non ha mai compensato una carrozza non ha mai posseduto un cavallo non si è mai presentata ai convegni solenni e sfarzosi del patriziato scrive Ignazio Galli in Elogio del principe Don Baldassarre Boncompagni per ricostruire la biografia del collezionista e la costituzione delle sue raccolte si rimanda a Antonio Mambelli un umanista della Romagna Carlo Piancastelli l'autografo Teca Bastogi note su una collezione e la sua valorizzazione la città di Livorno ha la fortuna di annoverare tra le sue collezioni manoscritte molte raccolte di autografi del suo collezionista Pietro Bastogi sappiamo che nasce a Livorno nel 1808 in una famiglia di commercianti e studia con notevole profitto alla scuola dei padri di San Sebastiano successivamente il suo impegno politico lo vede affiliato alla giovane Italia di cui diventerà anche tesoriere fu infatti amico di Francesco Domenico Guarazzi e Giuseppe Mazzini e andiamo avanti Filippo Raffaelli e Cesare Campori Stefano Conti ancora vediamo qui la doppia vita di una lettera Gian Lorenzo Bernini il signor Manni e i figli di Alessandro Tiarini fino alla conclusione di questo collezionale Autography con il quale vi salutiamo con un caro cordiale arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti